Buongiorno amici della serie video denunce eccetera, visto che potrebbe non crederci sì, vi allegro immediatamente se potete fate girare perché comunque la figura magari è riconoscibile perché c'è veramente gente che mi aspetta fuori casa riprendendomi e ora vi faccio vedere. Ciao amici, faccio un video in diretto a YouTube per farvi vedere che c'è gente che mi aspetta fuori casa e mi fa un video, questo signore che vedete inquadrato mi ha aspettato ripreso e quando gli chiedo perché mi riprende e mi registra mi volge le spalle se ne va e fa finta di niente.